La natura ha sempre occupato un posto speciale nel cuore delle persone di tutto il mondo, affascinandoci con la sua bellezza e offrendo un senso di pace e ringiovanimento. Nel mondo frenetico di oggi, dove abbondano stress e caos, la natura rimane un rifugio, una fonte di conforto e guarigione per l'anima stanca. Al di là della sua bellezza paesaggistica, la natura offre lezioni più profonde, lezioni di resilienza, interconnessione e rinnovamento. Mentre approfondiamo la saggezza della natura, arriviamo a renderci conto che non è solo uno sfondo per l'esistenza umana ma un insegnante sacro, che offre verità senza tempo e ci risveglia ai misteri della vita. Attraverso la nostra connessione con la natura, troviamo guarigione, pace mentale e un senso più profondo di scopo. Il potere curativo della natura La natura ha una straordinaria capacità di guarire, ringiovanire e ripristinare l'equilibrio nelle nostre vite. La ricerca scientifica, e innumerevoli aneddoti personali, attestano gli effetti rigeneranti del trascorrere del tempo in un ambiente naturale sul nostro benessere mentale, emotivo e fisico. La ricerca ha costantemente dimostrato, che trascorrere del tempo in un ambiente naturale, può avere un effetto positivo sulla salute mentale. Gli studi indicano che stare a contatto con la natura può ridurre i livelli di stress, ansia e depressione, migliorando allo stesso tempo l'umore, la felicità e il benessere psicologico generale. Che si tratti di una piacevole passeggiata in una foresta, di un'escursione in montagna, o semplicemente di sedersi in riva all'oceano, la presenza calmante della natura ha un profondo effetto sul nostro stato d'animo. Inoltre, è stato dimostrato che la natura ha effetti terapeutici sul nostro benessere emotivo, aiutandoci a coltivare un senso di pace interiore e resilienza, di fronte alle sfide della vita. Immergersi nella bellezza naturale, ci consente di disconnetterci dalle pressioni della vita quotidiana, fornendo una tregua tanto necessaria dal rumore costante, e dalle distrazioni del mondo moderno. A livello fisico, trascorrere del tempo nella natura, offre numerosi benefici per la salute, dal rafforzamento del nostro sistema immunitario, all'abbassamento della pressione sanguigna, al miglioramento della qualità del sonno, e all'aumento dei livelli di energia. Le storie e le esperienze personali sottolineano ulteriormente il potere di trasformazione della natura. Innumerevoli persone hanno condiviso, come il tempo trascorso in ambienti naturali li abbia aiutati a superare le avversità, a trovare la pace interiore, e a scoprire un senso più profondo di scopo e connessione con il mondo che li circonda. Dal superare il dolore e la perdita, all'affrontare le principali transizioni della vita, la natura è stata una fonte di forza, conforto e ispirazione per persone di ogni ceto sociale. Nella mia vita ho sperimentato in prima persona il potere curativo della natura. Nei momenti difficili, una passeggiata nel parco, o una giornata trascorsa a fare escursioni in montagna, mi hanno fornito la chiarezza e la prospettiva di cui avevo tanto bisogno. La bellezza e la tranquillità della natura non mancano mai di sollevare il mio spirito, e di ricordarmi la resilienza e la bellezza intrinseche del mondo naturale. Intuizioni spirituali dalla natura La natura è stata a lungo venerata come fonte di saggezza spirituale e ispirazione, offrendo intuizioni profonde sui misteri dell'esistenza e sul nostro posto nell'universo. Dalle antiche culture indigene e alle moderne tradizioni spirituali, la natura è stata vista come una manifestazione sacra del divino, un'incarnazione vivente della forza creativa che permea tutta l'esistenza. Nell'induismo, ad esempio, il mondo naturale è visto come un'espressione della presenza divina, con ogni elemento della natura intriso di significato e simbolismo spirituale. Allo stesso modo, nel Taoismo, l'armonia e l'equilibrio osservati nella natura servono come modello per vivere in allineamento con il Tao, o l'ordine naturale dell'universo. La bellezza e la maestosità della natura ispirano stupore e meraviglia, invitandoci a contemplare i misteri della creazione e la nostra interconnessione con tutti gli esseri viventi. Che si tratti della vista di un tramonto mozzafiato, del suono di un ruscello gorgogliante o della sensazione dell'erba soffice sotto i nostri piedi, la natura ha un modo di commuovere l'anima ed evocare un senso di riverenza per la sacralità della vita. Inoltre, la natura funge da profonda maestra, offrendo preziose lezioni di resilienza, adattabilità e interconnessione. I cicli di nascita, crescita, decadimento e rinnovamento osservati nel mondo naturale rispecchiano i ritmi della nostra vita, ricordandoci l'impermanenza di tutte le cose e l'importanza di abbracciare il cambiamento con grazia e accettazione. Nel trambusto della vita moderna, è facile perdere di vista la nostra connessione con qualcosa di più grande di noi stessi. Eppure, nella tranquilla serenità della natura, troviamo un santuario, un luogo in cui possiamo riconnetterci con la nostra essenza spirituale e sperimentare un senso di unità con l'universo. Sia attraverso la meditazione nella foresta, la preghiera in riva all'oceano o semplicemente la contemplazione silenziosa sotto le stelle, la natura ci offre una porta verso il divino, uno spazio sacro dove possiamo comunicare con il trascendente, e sperimentare l'interconnessione di tutta la vita. Nel mio viaggio spirituale, la natura è stata una fonte costante di ispirazioni e guida. Che si tratti del senso di pace e serenità che provo durante le escursioni in montagna, o del profondo senso di stupore e meraviglia che provo guardando il cielo notturno, la natura non manca mai di ricordarmi la bellezza e il mistero dell'esistenza. Immergersi nella bellezza della natura L'esperienza di immergersi nella bellezza della natura è profondamente nutriente per l'anima. Circondati da alberi imponenti, fiori vivaci e panorami mozzafiato, ci viene ricordata la maestosa magnificenza del mondo naturale. Nella quiete della natura, troviamo un senso di calma e serenità che penetra nel profondo del nostro essere, lavando via lo stress e la tensione, e lasciandoci una sensazione di freschezza e rivitalizzazione. Per migliorare la nostra connessione con la natura, e immergerci completamente nella sua bellezza, ci sono diversi consigli pratici che possiamo utilizzare. 1. Osservazione consapevole. Prenditi il tempo per osservare e apprezzare i dettagli del mondo naturale che ti circonda. Nota i colori, le forme e le texture delle piante e degli animali, il gioco di luci e ombre, e i sottili cambiamenti nel paesaggio. Esercitati a essere pienamente presente nel momento, lasciando andare le distrazioni e permettendoti di immergerti completamente nella bellezza di ciò che ti circonda. 2. Respirazione profonda. Fai respiri profondi e lenti, e concediti di inalare completamente l'aria fresca e pulita della natura. Concentrati sulla sensazione dell'aria che riempie i polmoni, e sulla sensazione di espansione e rilascio ad ogni respiro. La respirazione profonda aiuta a calmare la mente, ridurre lo stress, e promuovere un senso di rilassamento e benessere. 3. Esercizi di radicamento. Connettiti con la terra sotto i tuoi piedi, praticando esercizi di radicamento come camminare a piedi nudi sull'erba, o sulla sabbia, sederti con la schiena contro un albero o semplicemente sdraiarti a terra e sentire la terra che ti sostiene. Il radicamento aiuta a centrare ed equilibrare la tua energia, favorendo un senso più profondo di connessione con la natura, e promuovendo sentimenti di stabilità e sicurezza. Incorporando questi suggerimenti pratici nel tempo trascorso nella natura, possiamo approfondire la nostra connessione con il mondo naturale, e sperimentarne la bellezza e la tranquillità, in un modo più profondo e significativo. Sia che cerchiamo conforto e guarigione, ispirazione e creatività, o semplicemente un momento di pace e tranquillità, la natura ha il potere di nutrirci e ringiovanirci ad ogni livello del nostro essere. Ti amiamo teneramente, siamo qui con te, siamo la tua famiglia di luce, noi siamo la Federazione Galattica. AO, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica. AO, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.